Simefei Zuckowski, una CMC bella solo per un set, non basta? Sì, abbiamo partito molto bene, abbiamo fatto cose che abbiamo detto in spogliatoio, tutto bene e poi è successa una caduta, un po' di testa, una brutta sconfitta e dobbiamo vedere e cercare i nostri problemi per imparare meglio e siamo a testa La testa, la testa, usi questa parola, quindi diciamo che è questo che manca ancora alla CMC oggi? Ma questo e dobbiamo fare alcune cose in aumento tecniche, soprattutto a muro di difesa che è molto molto importante, senza questo non si può giocare e anche atteggiamento, quando perdiamo due o tre punti dobbiamo alzare la voce, dobbiamo fare qualcosa Insomma, diciamo che oggi la ricezione ha funzionato discretamente per un set, poi ti è toccato girare per il campo un po' troppo, no? Ma va bene, non è questo il problema, il problema non è solo ricezione, dobbiamo andare tutti avanti Come si esce da questo momento difficile? Niente, domani è un altro giorno, nuovo giorno, prossima settimana nuova partita e dobbiamo dimenticare questo e basta Insomma, la prossima settimana arriva Maserata soltanto, forse la squadra più forte del momento, no? Sì, certo, sono più forti, ma niente, noi andiamo avanti, andiamo a giocare al massimo come sempre e vediamo